Il primo positivo, il disinfettante nelle stazioni della Scala Mobile, i sindaci incerti fino all'ultimo momento sulla prorga della chiusura delle scuole. L'epidemia di coronavirus non è di certo giunta al termine e tocca anche il bellunese. C'è il primo tampone positivo e si tratterebbe di un uomo di un piccolo paese della Gordino che è stato in un'area cluster. La risposta definitiva deve arrivare dallo Spallanzani. A livello ufficiale la situazione attuale comunicata dal direttore generale dell'USDolomiti, Adriano Rasi Caldogno, è questa. Abbiamo nel territorio dell'USDolomiti 55 casi in isolamento fiduciario a domicilio per cui sono tutte persone che per due settimane dovranno rimanere a casa proprio per evitare il potenziale propagarsi dell'epidemia. Abbiamo un caso in esame e quindi questa è la situazione alle 14 di quest'oggi. Ricordo che i casi positivi confermati sono esclusivamente quelli certificati dall'Istituto Superiore di Sanità. Del bellunese quindi sono 56 le persone che devono prestare più cautela delle altre distribuite su tutto il territorio provinciale. L'invito dell'USD è quello di prestare fede solo alle notizie provenienti dai canali ufficiali anche per quanto riguarda l'accesso ai servizi. A tal proposito è stato il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini a diramare per primo nel pomeriggio la notizia della proroga della chiusura delle scuole fino al 7 marzo non solo nella sua regione ma anche in Lombardia e in Veneto in seguito al parere del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale. A Belluno intanto è iniziata l'installazione da parte degli uomini della Protezione Civile Comunale dei primi 60 dispenser contenenti gel disinfettante posizionati all'interno degli uffici pubblici comunali e nei luoghi di frequente passaggio. Il primo luogo di intervento è stata la scala mobile di Lambioi con quattro dispenser installati a inizio e fine rampe e nei due piene rotto l'intermedi per poi passare all'eco sportello Bellunum in via Feltre alla piscina e alla spessa arena.